Presidente Pasini, un 4-2 che sa di sospiro di sollievo, ci volevano questi tre punti? Assolutamente sì, anche perché in caso di non vittoria noi dovevamo ridimensionare le nostre aspettative per quanto riguarda un po' i play-off. Adesso siamo sempre decimi, abbiamo un punto dalla nona, per cui i tre punti oggi erano assolutamente importantissimi e necessari per affrontare poi le prossime partite che saranno molto dure, già da domenica dove incontreremo una grande squadra che in casa è molto forte, che è il Como. Una vittoria importante, nonostante una partita giocata forse con un po' di frenesia la squadra, però ce l'ha messa davvero tutta. Volevano i tre punti, forse in vista anche della prossima, come ha detto lei, a Como. Sì, diciamo, ci siamo fatti un po' del male da soli sul secondo loro gol, una palla un po' sporca che è entrata, però ho visto anche poi una squadra tuttosommata messa bene in campo, ecco un gran gol di Dell'Orco, devo dire che dimostra il giocatore che è, la grande personalità, naturalmente un giocatore molto importante che penso che il prossimo anno non vedremo più calpestare il campo del Turrino, però mi ha impressionato molto anche Zampa nel primo tempo e lo stesso Miracoli dove sono partiti un po' i primi tre gol da dove poi sono nati le azioni su cui poi sono nati i gol. Sì, una partita forse che i ragazzi nei primi minuti la sentivano, ecco, appunto per la posta che c'era in gioco. La Ferrapi Salò ha 29 punti in classifica, ripensando un po', guardando indietro, adesso che siamo a metà classifica, qualche punto lasciato per strada che le preme sul petto? C'è? Eh beh, qualche punto c'è di sicuro perché io credo che, insomma, tre punti in più forse potremmo anche averli, ecco, anche perché rimane comunque un po' di rammarico anche per qualche arbitraggio che non è andato comunque per il verso giusto, ecco, anche domenica scorso a Vicenza c'era un rigore per noi che non c'è stato concesso, ma forse l'arbitro non l'ha visto proprio sul 2-1. Però, insomma, oggi credo che dal punto di vista arbitraria non c'è niente da dire, è un partita tutto sommato corretta anche da un po' le parti, per cui è importante oggi fare, ripeto, i tre punti per il morale e soprattutto anche per la classifica. Anche perché finalmente dalla prossima, se tutto fila liscio, Mr. Scienza avrà tutta la rosa a disposizione, oggi mancava Tantardini però il 99% della rosa era a disposizione dopo tanti mesi. Sì, una rosa al completo, io credo che questa settimana dovrà lavorare un po' sulla difesa, perché oggi ho visto la difesa delle volte andare un po' nel panico, ecco, su certe palle sporche, ecco, lì forse penso dobbiamo un po' concentrarci perché a Como sarà una battaglia, eh, assolutamente.